Si è svolta con successo la settima maratona del Matesanio di ciclismo all'interno della straordinaria scenario del Parco regionale del Matese con partenza e arrivo a Gioia Sannitica a vincere per il mediofondo Luciano Adriano e per le donne Marianna Iervolino. La Gran Fondo invece è andata a Roberto Cesaro. Tre legatute nel corso della gara che purtroppo rientrano nella normalità ma per fortuna senza gravi conseguenze per gli atleti. La gara era valida quale prova unica del campionato Gran Fondo e Medio Fondo a comunicarlo la Fede del Ciclismo Campania. Un ulteriore riconoscimento e promozione sul campo per la manifestazione sportiva che tra l'altro dal prossimo anno sarà anche tappa del campionato italiano. Da Gioia Sannitica è tutto. Lorenzo Applauso per casertasera.it Grazie a tutti.